A presto 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 E' lo stesso che si tratta di fare la faccia di sancalp. Ma non si tratta di sancalp. Quindi come si tratta di svarao? Hai, tu lo stai pensando. D'acquesta, bisogna fare. Bisogna bisogna fare, bisogna fare. quindi il pensamento di creare dovremo fare ma se non fare non fare poi il pensamento di creare non può fare come si arriva ogni lavoro il pensamento di creare è un pensamento di creare cosa vuoi You what are you trying to do? What's your vision? You need to know. Perhaps you don't know what you want to do. What's your vision? You don't know. What's your vision in which you want? Grazie a tutti. 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 . Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. . Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. . Grazie a tutti. . Grazie a tutti. Grazie a tutti.